Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido finché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà. affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sono sempre da capo nella mia cara eredità del Fiat Divino. Mi sembra che mi sussurra all'orecchio. Come era in principio sarò sempre, nei secoli dei secoli. Anche tu, se starai nella mia Divina Volontà, sarei sempre uguale a te stessa, non cambierai mai azione. Farai sempre la mia volontà e le varietà delle tue azioni le potrai chiamare effetti di quell'atto primo e solo di essa che scorre negli atti tuoi per farne uno solo che tiene virtù di produrre il sole. La bella iride della varietà dei colori come effetto della sua luce senza cambiare il suo atto unico di dare sempre luce. Quale felicità si sente nell'anima di poter dire faccio sempre la Divina Volontà. Ora la mia piccola e povera intelligenza me la sentivo assorbita nella luce della Volontà Divina e sentivo in me la forza unica e potente di essa e gli innumerevoli suoi effetti e la varietà dei suoi effetti facendomi corona ed investendomi erano portatori di gioia, di pace, di fortezza, di bontà, di amore, di santità, di bellezza indescrivibile. Questi effetti erano come tanti baci di vita che davano all'anima mia e ne restava posseditrice. Io ne sono restata meravigliata ed il mio sempre amabile Gesù mi ha detto. Figlia mia, tutti gli atti fatti dalla Creatura nella Divina Volontà sono confermati da Dio come atti divini e questa confermazione forma la vita degli stessi atti e vengono suggellati col suggello divino come atti imperituri, sempre nuovi, freschi e di una beltà incantevole. Gli atti fatti dalla Creatura nella mia volontà potrei chiamarli nuova creazione che io faccio nella Creatura. Come essa va facendo il suo atto in essa il mio Fiat si impone con la sua forza creatrice e vi forma l'atto suo e come diritto lo conferma. Succede come successe nella creazione. Siccome correva la forza creatrice della mia volontà nel creare tante cose restarono immutabili senza mai cambiarsi. Si è forse mai cambiato il cielo, le stelle, il sole, affatto. Quali furono creati, tali sono perché dovunque mette la sua forza creatrice il mio volere resta la vita perenne del suo stesso atto e come conferma non si può mutare mai. Vedi dunque che significa fare e vivere nella mia Divina Volontà stare sotto l'impero di una forza creatrice e confermatrice che mette al sicuro tutti gli atti della Creatura rendendoli immutabili. Sicché col vivere nel mio volere essa resterà confermata nel bene che fa, nella santità che vuole, nella conoscenza che possiede, nel trionfo del sacrificio. La nostra divinità, nostra spontanea volontà, sta sotto l'impero di un amore che corre irresistibilmente perché vuole dare alla Creatura tanto che nel creare l'uomo fu creato, nella nostra foga d'amore, dai tocchi delle nostre qualità divine. Il nostro essere divino, essendo purissimo Spirito, non aveva né mani né piedi. le nostre qualità divine ci servirono di mani per formare l'uomo e riversandosi sopra di lui come un impetuoso torrente lo plasmammo e toccandolo gli infondemmo gli effetti delle nostre qualità supreme. Questi tocchi sono rimasti nell'uomo e perciò si vedono in lui certe belle qualità ma di bontà, di ingegno, di intelligenza ed altro. Sono la virtù dei nostri tocchi divini che continuando a plasmare l'uomo producono i loro effetti. sono i nostri pegni d'amore con cui lo impastammo che adonta che lui non si ricorda e forse neppure ci conosce continuano il loro ufficio perenne di amarlo. e siccome quando si tocca un oggetto o una persona chi tocca sente l'impressione della persona toccata quindi come i nostri occhi quindi come i nostri tocchi delle qualità divine restarono nell'uomo così restò nelle nostre qualità supreme l'impressione di averlo toccato. sicché lo sentiamo in noi stessi come non amarlo? Perciò per quanto ne faccia l'uomo gli andiamo incontro con nuovi ritrovati d'amore e con il nostro gradito ritornello di amarlo sempre. Allora amici carissimi dico subito che intenderei soffermarmi alquanto a lungo sulla seconda parte di ciò che Gesù oggi ci ha detto che confesso mi ha fortemente impressionato anche perché mi ha fatto ripensare a tante cose qui non vorrei uscire fuori tema però questa magari è una cosa un po' più comprensibile da chi mi segue un po' anche al di là delle meditazioni e delle catechesi sulla Divina Volontà no? Perché quello che Gesù ha detto mi ha fatto ripensare chiaramente alla creazione dell'uomo quindi a tutto quanto il ciclo di catechesi sul peccato originale e in particolare ad alcune ipotesi di cui si parlò in quella sede a mio avviso non non attendibili quindi non 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 come dire non aventi un grado sufficiente di attendibilità e peraltro apparentemente contraddicendo alcuni dati biblici che qui invece nostro Signore ribadisce mi riferisco insomma all'ipotesi creativa e anche del peccato originale di un confratello di un sacerdote passato un tempo a miglior vita certamente un santo sacerdote i cui scritti però continuo a dire nonostante anche poi tanti messaggi di critica che mi sono arrivati pur con tutto l'affetto profondo che provo per un sacerdote pur con tutto il timore dico mamma mia e se gli avesse parlato nostro Signore mi vado a mettere contro una cosa che il Signore ha detto insomma io nel cuore ho sempre un po' di timori di questo genere però nel profondo della coscienza non ce la faccio quindi un po' potazzi che ogni giorno ce la farò però in questa seconda parte io ricordo molto bene insomma c'è il testo ebraico dell'Ipo della Genesi per grazia di Dio non certo per mie qualità fu uno dei grandi regali quello di poter studiare all'ebraico addirittura in terra santa in una delle state più belle della mia vita quello fu un regalo del Signore io ci ho messo soltanto di andarci e metterci un pochino di impegno e basta ora proprio il il termine utilizzato dalla saga scrittura per designare la creazione dell'uomo è proprio il plasmare plasmare che dà proprio l'idea del fatto che è proprio una cosa che Dio ha fatto con le mani come un vasaio prende l'argilla e la plasma proprio con le mani adesso sicuramente queste operazioni si fanno con le macchine ma un tempo non era così non avevano fatti i lavori a mano proprio con le dita che portavano via e poi usciva la forma dell'oggetto desiderato quindi la creazione dell'uomo nella Genesi è scritto così che Dio fa questo e poi ci insuffla lo spirito perché in ebraico ruach significa tre cose significa sì spirito in greco è pneuma ma significa anche soffio proprio soffio proprio il gesto del soffiare è anche il respiro vitale il ruach e anche vento tutto il discorso che Gesù fa nel Vangelo che chi rinasce da acqua e da spirito è come il vento chi lo stava sentendo quando ha detto noi diciamo che rinasce da acqua e da spirito è come il vento ma in aramaico in ebraico dire si rinasce da acqua e da ruach e per cui chi è rinato in questo modo è come ruach d'accordo quindi queste sono le piccole sfumature che la grazia della conoscenza di queste lingue si dà e attenzione ma questo introduce anche un altro tema non per niente è stato Don Pablo Martin caro amico nonché per quanto mi riguarda io se posso consigliare per quanto riguarda la divina volontà io non conosco tutti i sacerdoti che parlano della divina volontà io personalmente preferisco dare credito ai sacerdoti so che anche molti fedeli laici sono imbarcati su queste cose però personalmente non è perché io sono sacerdote non mi interessano queste cose insomma chi mi conosce lo sa nostro Signore negli iscritti ha affermato esplicitamente che queste conoscenze devono essere portate dai sacerdoti e non è che l'ha fatto soltanto per una ragione come dire forse anche per quello diciamo così di rispetto gerarchico verso la Chiesa che lui stesso ha creato per cui se ha dato ai sacerdoti il compito ufficiale di predicare devono farlo loro ecco detto proprio ripeto a me se potessi scomparire domani e proprio sparire dalla circolazione andando a piangere i miei peccati come diceva il Santo Curato d'Ars Dio mi ha testimone che lo farei molto molto volentieri spero che non si tratti di niente di personale o di ambizione o che voglio essere solo io ma Dio me ne scampi proprio liberi se avessi questi pensieri qualcuno me lo faccia notare e che Dio mi punisca in una maniera più rigorosa che esiste ecco quindi fate tutte quante queste premesse non per niente non per niente Don Pablo Martín non soltanto ha tradotto in italiano il testo di Tenera Amata di cui avremo modo di parlare nel corso se Dio vuole di quest'anno tra breve ecco credo proprio che la prima catechesi mi sta venendo in mente dell'anno prossimo pastorale sarà proprio quella su Tenera Amata anche perché il primo venerdì di settembre che è il 2 settembre quindi con la ripresa potrebbe essere proprio penso che farò così e se la merita lui non soltanto ha tradotto il testo di Tenera Amata ma ha anche scritto un bellissimo buscoletto che sicuramente a cui sicuramente farò riferimento nel corso delle catechesi che si chiama Il mistero dell'ora presente che è praticamente un commento catechetico soprattutto a quella grande rivelazione che c'è nel testo di Tenera Amata che è la quinta dimensione cioè la quinta dimensione significa che tutto ciò che di corporeo cioè che di totalmente umano quindi non solo spirituale noi stiamo vivendo questo rimane in eterno e anche dopo che saremo morti sì la nostra anima certamente si separerà dal cadavere quindi se io moro morirò tra 30 anni diciamo così il mio tempo vissuto con il mio corpo va dal mio concepimento fino a tra 30 anni ci avrò 80 anni quindi io ho questo tempo che ho vissuto nel corpo ma questo tempo che ho vissuto nel corpo che è depositato nella cosiddetta eternità creata io potrò riviverlo anche dopo morto e con il mio corpo attenzione quello che non potrò fare chiaramente è avere il corpo perfettamente glorificato e padrone di tutti perché la mia anima si staccherà dall'ultima conformazione che ha avuto il mio corpo sulla terra cioè l'istante prima di morire che sono un cadavere ma il resto no e questa cosa diventa meno sconvolgente perché è una verità forte anche Don Pablo nel testo che scrive dice giustamente io mi sottometto fin da adesso a tutto quello che pensa la Chiesa queste sono idee per certi aspetti nuove ma confrontiamole con quello che oggi Gesù ci ha detto cioè guardate io adesso mi diverto un attimo a vedere nell'ultimo capoverso quante volte ricorre il termine tocco oppure il verbo toccare proprio il touch il toccare il tatto il tatto è una cosa molto fisica amici non è che è una cosa spirituale cioè non c'è contatto spirituale d'accordo cioè due spiriti non si toccano chi lo sa che combineranno due spiriti ma il contatto è proprio una cosa tangibile fisica e sentite guardate il nostro essere divino essendo purissimo spirito attenzione non aveva né mani né piedi attenzione le nostre qualità divine ci servirono di mani sta dicendo che attraverso la sua onnipotenza perdonatemi è come si è fatto le mani per formare l'uomo quindi siccome per plasmarlo le mani ce vogliono dice ma Dio non ce l'ha le mani perché è puro spirito come dire qui può darsi che ho capito male magari qualche grande esperto mi aiuterà le nostre qualità divine ci servirono di mani per formare l'uomo e riservandosi sopra di lui come un impetuoso torrente lo plasmammo e toccandolo toccandolo primo touch toccandolo gli infondemmo gli effetti delle nostre qualità supreme ecco io stavo a ripensare che Dio per creare l'uomo secondo certe cose deve andare a servirsi del grembo di un ancestre mettendoci lui i gameti qui non c'è niente di touch d'accordo è una cosa come dire che per quello che sappiamo della riproduzione sessuata oggi è scientificamente plausibile perché noi lo sappiamo che oggi il corpo umano nasce dall'incontro di due gameti uno maschile e uno femminile punto questo se sa ma qui parla proprio la creazione del primo uomo un'altra cosa qui c'è un touch toccandolo prima volta che ricorre toccare poi continua questi tocchi seconda volta sono rimasti nell'uomo capite cioè questo contatto primordiale che Dio ha operato con Adamo è rimasto eternamente nell'uomo cioè il contatto fisico oserei dire che Dio ha avuto con noi lo percepisco anche oggi amici io capite la meditazione è un fare attenzione quindi cercando di leggere con calma e dire ma che sta dicendo qui su un testo se mi sbaglio poi nei commenti al video oppure nelle reazioni alla diretta oppure se c'è qualche grande esperto che mi diceva ma hai capito proprio niente tu sei completamente fuori di testa io sono ben felice di rimangiarmi tutto se così fosse a me sembra che sto capendo bene tocchi sono rimasti nell'uomo seconda volta che ricorre toccare come sostantivo e perciò si vedono in lui certe belle qualità di bontà di ingegno di intelligenza e di altro ora amici proviamo un attimo a vedere è vero che il genere umano lo sappiamo tutti quanti purtroppo l'uomo decaduto è una montagna di miseria di peccati si vedono tante cose brutte tanti scandali eccetera eccetera però proviamo un attimo a focalizzare l'attenzione su un'altra cosa cioè a volte a me questo capita infinite volte anche nelle persone come dire magari lontane da Dio cioè si vedono però qualità di bontà si vedono io rimango sbalordito tante volte qualcuno pensa che io sia molto intelligente ma l'intelligenza rispetto ad altre che cioè rispetto a mostri di intelligenza che io conosco fa ridere proprio le galline cioè io veramente dinanzi a certe cose che ho visto dinanzi a certe menti a certe lucidità mentali capacità di espressione culture spaventose perfezioni io mi sento meno che nulla ma non lo dico per umiltà è la verità d'accordo purtroppo magari poi ci avessi l'umiltà si vedono e da dove vengono quelle cose così belle anche in una persona che magari non sta in grazia sta tanto lontana da Dio dice ma com'è ma com'è che perché c'è comunque il contatto creativo cioè quella persona oltre ad essere un'anima creata da Dio si porta dietro questi tocchi sono rimasti nell'uomo e perciò si vedono in lui certe belle qualità di bontà di ingegno di intelligenza attenzione adesso sono la virtù dei nostri tocchi divini tocchi divini touch tocchi divini terza volta che ricorre questo termine che peraltro adesso mi sta venire mi sta venendo in mente che certi tocchi come come spiega Santa Teresa Davila nei suoi scritti sono anche spirituali cioè quando nostro Signore ci tocca ci tocca il cuore e queste sono cose che per viverle bisogna imparare a pregare un po' profondamente quindi a cioè a praticare la preghiera profonda che quel momento in cui io mi metto dinanzi a Dio meglio se fatto davanti dal Santissimo Sacramento ognuno può si trovare sui momenti migliori a mio avviso il momento più indicato per chi se lo può permettere e per quando ci stanno le circostanze possibili perché oggi in San San Francisco sono possibili è il tempo del ringraziamento dopo la comune se uno ci avesse da dedicare come sarebbe opportuno come la Madonna ha suggerito a Meggiugori come hanno insegnato i maestri di spirito sapete quanto tempo bisognerebbe stare dopo la messa? Un'ora tu dici mamma mia un'ora ma se tu usi bene quel tempo cioè per carità se il nostro Signore vuole fare come madre Teresa di Cacutta che ci vuole tenere dieci anni in stato di aridità assoluta lo può fare in quel momento non è obbligato a fare niente però tu qualche cosa l'avvertirai sono realtà spirituali è impossibile spiegarle a voce cioè è impossibile questa è i mistici e i maestri di spirito dicono guarda che il nostro Signore ti tocca ti fa sentire la sua presenza ti fa percepire il suo amore non sono illusioni d'accordo certamente ci possono essere anche come dire patologie psicologiche quindi anime facilmente suggestionabili oppure quelle che si pensano che hanno visto davanti al tabernacolo le mani di Gesù queste cose qui io sono sempre un pochino perplesso dinanzi a queste cose però questi sono tocchi certamente che sono tocchi spirituali ma sono tocchi che poi producono a livello sensibile delle reazioni producono un diletto producono una gioia possono produrre le lacrime possono produrre una serie di affetti accesi ardenti queste cose bisogna viverle è un contatto anche quello è come lo realizza nostro Signore figli io che ne so come lo realizza non lo so perché Dio purissimo spirito anche la nostra anima noi ci portiamo dentro le nostre persone la nostra anima è un tesoro preziosissimo è una perla preziosa è la perla preziosa di cui va in cerca che è trovata la bisogna vendere tutti quanti i nostri beni sapete che Santa Teresa descrive che cos'è la vita mistica la vita mistica non tornare a noi stessi è imparare ad abitare tutte le stanze della nostra anima fino al cuore dal centro della nostra anima dove si trova seduto sul trono l'altissimo il castello interiore di Santa Teresa parla di questo parla noi pensiamo che chi lo sa dove devi andare Dio lo trovi dentro di te ma questa non è la frase che dicono i chiacchieroni qualunquisti Dio sta dentro di noi allora non c'è bisogno di andare in chiesa ma queste sono tutte cantate cretinate queste qua ma c'è la sostanza profonda cioè che mano a mano che tu entri dentro seduto come un sole su un trono nella parte più profonda della nostra anima nella settima stanza la chiama Santa Teresa c'è Dio uno è trino evidentemente la quasi totalità degli esseri umani non gli passa nemmeno per la pregante di camera del cervello Santa Teresa dice la stragrande maggioranza non entra nemmeno nella prima stanza cioè sorpassando il fossato dove ci stanno rettili e animali i verenosi cioè il mondo e il demonio e la prima stanza è la preghiera vocale la prima stanza fatta bene a seconda della meditazione quella che stiamo facendo adesso stiamo nella seconda stanza quando facciamo le meditazioni sulla divina volontà no? ecco comunque tocchi divini che plasmano l'uomo attenzione sono i nostri pegni d'amore con cui vedete lo impastamo l'operazione dell'impastare pensiamo a quando le nostre nonne che buone che erano facevano la pasta fatta a mano no? le buone pettuccine le catelle quando si era più giovani che si potevano mangiare senza controindicazioni che dopo uno si deve sentire male che diventa una balena però gli impasti che li facevano a mano senza macchinette quindi io me lo ricordo le scene ancestrali dell'infanzia con mamma che metteva le uova metteva la farina e poi con ste mani cominciava a impastare no? e veniva fuori sti impasto lì dentro c'era credo la farina le uova che ne so il sale non so come si fanno sti impasti però sicuramente c'erano diverse cose ma alla fine c'era una sostanza nuova che era quella impastata che poi tagliata bene e cucinata con un buon succo doveva c'era delle splendide fettuccine insomma ma qui dice i pegni d'amore con cui lo impastammo noi siamo impastati con pegni d'amore di vino dice Gesù adonta che lui non si ricorda e forse neppure ci conosce cosa che ripeto riguarda la quasi totalità degli esseri umani però continua nel loro ufficio perenne di amarlo l'uomo ce l'ha in sé senza saperlo e dice Gesù deborda questa cosa qui in maniera quasi necessaria necessaria in qualcosa di bello che esce dall'uomo anche nei peggiori esseri umani si può trovare qualche cosa di bello siamo non lo so un essere spietato non lo so un boss o un dittatore se quello ha un figlio è possibile che nei confronti di un figlio abbia tante delicatezze abbia tante tenerezze ma comunque è una persona spietata crudele però dinanzi al figlio è altro quindi questi grandi misteri dell'essere umano attenzione e adesso vediamo in tre righe tre tocchi quando si tocca un oggetto dice Gesù quindi stiamo alla terza nomina anzi la quarta questa qui quando si tocca un oggetto o una persona chi tocca stiamo a cinque sente l'impressione della persona toccata sei quindi come i nostri tocchi sette delle qualità divine restarono nell'uomo così restò nelle nostre qualità suprema l'impressione di averlo toccato otto ed ultimo non mi sembra che poi ce ne sia otto volte eh in due quattro sei otto dieci dodici quattordici sedici righe quindi una volta ogni due righe nella mia versione digitale è tanto ma capiamo cosa sta dicendo qui Gesù addirittura in quest'ultimo passaggio allora qua e questo ci fa anche capire adesso devo fare un riferimento o magari mi prendo qualche tempo in più a tutta quanta pensiamo all'economia sacramentale no? e a quante cose adesso sono state perse ahimè con tutte quante ahimè il touch dice rimane impressionato chi l'ha sentito il tocco cioè se a noi qualcuno ci ha dato una carezza prova un attimo a chiudere gli occhi se tu ci pensi tu te la ricordi quella quella carezza se ti concentri ti sembra di sentire che ne so quella quella mano che tocca la tua mano quella mano che tocca il tuo viso no? pensate a tutte quante le manifestazioni lo stringere una mano ma voi pensate a quello che è successo in questo tempo la negazione capite cosa significa questo? cioè il distanziamento la negazione di ogni contatto per certi aspetti è l'antidivinità perché è l'antiamore non so se riesco cioè provate un attimo a riflettere su questa cosa alla luce di quello che abbiamo ascoltato perché stringere una mano per esempio quello è un contatto che anche in questa condizione insomma dove stiamo tutti interdetti perché poi Teneramata lo spiega in paradisi i contatti faranno il fumo in senso positivo e saranno tutti i contatti d'amore qui purtroppo dobbiamo stare attenti perché c'è la concupiscenza quindi molti contatti sono pericolosi ma se non ci fosse la concupiscenza ma ci sarebbe un amore pulito universale anche in questo mondo non dobbiamo aspettare di andare nell'eternità creata e sarebbe un touch continuo allora dico attenzione Gesù dice anche io sono rimasto cioè anche io mi ricordo di aver toccato l'uomo lo dice così restò nelle nostre qualità supreme l'impressione l'impressione questo è proprio un termine filosofico l'impressione l'imprinting quindi in Dio c'è come dire l'impressione del contatto avuto creando l'uomo se lo ricorda se lo ricorda non si può dire se lo ricorda di Dio però per capirci insomma gli è rimasto ma capiamo quanto è importante allora andiamo a vedere la liturgia della chiesa ma è il gesto dell'imposizione delle mani per esempio l'olio santo si impongono le mani sulla testa ordinazione si impongono le mani nel sacramento della penitenza si stende il braccio simbolicamente ma si può anche imporre la mano sulla testa quando un sacerdote benedisce che dà una benedizione impone le mani sulla testa durante un esorcismo si impongono le mani sulla testa proprio c'è il contatto di mano contatto ma pensiamo agli altri sacramenti il battesimo c'è un contatto di acqua la cresima c'è un contatto il crisma tu lo senti sulla fronte una volta il vescovo aveva uno schiaffetto che faceva molto bene ma non lo danno più perché se vede che non è politicamente corretto che se uno gli dà uno schiaffetto c'è pure pericolo che qualcuno ti denuncia però c'era la stretta di mano con il vescovo le unzioni tutte quante fatte rigorosamente con il dito con il dito dito nel battesimo il rito antico nel battesimo e se uno se lo va a leggere ma sapete quante volte il sacerdote impone la mano sulla testa del battezzante tantissime poi gli mette la stola addosso poi gli dà da mangiare il cristallino di sale esorcizzato glielo mette proprio in bocca c'è un contatto pure nella creatura battezzata e pensate se facesse oggi il gesto dell'effatà che veniva fatto un tempo appunto nel battesimo antico il sacerdote si inumidiva il pollice e toccava con il pollice inumidito dalla saliva e fatà che significa le orecchie e le labbra del neonato ah pensate se si facesse oggi tutti quanti gli igienisti a prescindere poi dalle dalle pandemie chiamiamole così immagini che scandano e l'eucaristia non c'è un contatto vi ricordate quando Giudice si scandalizzano che ho dato un bacio a Luisa anzi non uno io ne ho dati tanti e questi mi prendono dentro la bocca tutti i giorni ma scusate ma non è un bacio fare ma è più di un bacio fare la comunione ricevere Gesù che entra in contatto con la tua bocca con la tua lingua con il tuo palato con la tua saliva è così durante la comunione non è uno scherzo non è un gioco quindi pensiamo a tutte quante queste cose ma pensiamo anche ai contatti umani quanto possono essere espressivi ecco questo allora è ovvio che purtroppo in condizioni di interdizione come stiamo qui c'è il peccato originale i contatti purtroppo sappiamo bene che devono essere ci vuole molta molta attenzione perché se non c'è una grandissima santità anche un contatto innocente specialmente tra persone di sesso diverso purtroppo e dico purtroppo può diventare estremamente pericoloso ahimè ma questo non dipende dal fatto che il contatto non sia una cosa buona sapete quando due sposi e io ne ho conosciuto qualcuno è una cosa meravigliosa quando due sposi diventano veramente felici quando scoprono di potersi amare contattandosi quindi toccandosi quindi con contatto ma non necessariamente con gli atti tipicamente coniugali cioè sapete che un tempo o qualcuno salterà dalla dalla sedia o griderà lo scandalo ma un tempo gli sposi santi quando si univano che evidentemente lì ci è richiesto un contatto ma lo facevano perché dobbiamo farlo perché speriamo che il nostro Signore ci mandi una vita quindi principalmente per questo motivo pur amandosi immensamente basta leggere le lettere tra Santa Giovanna Beretta Molla e suo marito che sono un gioiello ma l'amore anche l'amore l'amore corporeo che due sposi che si abbracciano che si fanno un sacco di carezze che si danno un sacco di bacetti un sacco di baci belli ma sono una cosa cioè ma non è più io sono ignorante su una certa materia perché per grazia di Tio ma non è più bello questo della brutalità di un atto insomma secondo me sì e tutti quanti quegli atti che se non ci fosse stato il peccato originale sarebbero molto molto più diffusi anche in questa vita e saranno diffusi nell'eternità creata basta leggere Tenera Amata sono santi e benedetti perché la nostra umanità è come dire è anima e corpo quindi necessariamente si esplica attraverso gli atti tangibili ed ecco perché è una cosa meravigliosa ed è molto verosimile che esista l'eternità creata dove è possibile cioè dove la nostra separazione dal corpo in altre parole non sarà mai piena e totale perché è impossibile una separazione piena e totale proprio per questa dimensione costitutiva e fondamentale che ha proprio questo contatto che quanto viene detto qui addirittura Dio ha voluto renderlo possibile per se stesso creando l'uomo perché rimanessero impressi in lui i suoi contatti ma anche per per permettere che fossero impressi in sé il contatto con il suo gioiello cioè Dio si ricorda quanto si ricorda prendetelo sempre con le molle quanto è bello aver toccato ruolo e insomma è tanta roba io sono veramente rimasto dinanzi a tutte tante queste cose e le ho umilmente speriamo in maniera comprensibile e decente condivise un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rallegrandorci per tutto questo, anche con un po' di malinconia perché dobbiamo aspettare un po' per poterlo vivere in pienezza, ecco però fa che possiamo sempre maggiormente crescere anzitutto nell'amore verso di te e soprattutto andare a cercare e a trovare quei contatti con te che sono possibili, nella Divina Volontà sono più che possibili e per vivere i quali, come abbiamo avuto modo di accennare, è necessario imparare ad entrare appunto in contatto, certamente mistico nel senso di misterioso, di spirituale, ma anche di molto vero, reale, profondo, che accade e che come diceva Santa Teresa questo non è riservato a nessuna elite, tutti potrebbero arrivare agli ultimi gradi della mistica, se solo lo volessero si disponesse a farlo e ci impiegassero tempi ed energie, superando evidentemente anche le difficoltà dei primi passi, che non è che uno dall'oggi al domani si mette a pregare e va in estasi, ci vogliono anticamere che possono durare anche settimane, mesi, anni, però ecco Signore concedeci la grazia di poter vivere tutti, almeno in parte, questa delizia dei contatti con te, in attesa poi di poterli vivere più liberamente, anche con tutte quante le creature in tua immagine, i nostri fratelli e sorelle, i nostri compagni diciamo così di amore bello che tu hai creato. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ame, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni madre, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ame. Fiat Ave Maria